È un lavoro che mi piace molto, che è molto vario, in cui non ci si annoia mai. E inoltre un altro aspetto per me molto importante e positivo è il fatto di lavorare molto in team. Mi piace moltissimo. Mi chiamo Giovanna Sessa e attualmente ricopro il ruolo di Simulation Specialist presso il Dipartimento di Electrification Technologies in Iveco. In breve il mio lavoro consiste nell'effettuare delle simulazioni di performance e consumi su veicoli elettrici. È un lavoro molto vario in quanto le richieste di simulazioni possono comprendere diversi aspetti, a partire da quello termico fino alle performance dinamiche in diverse condizioni e su diversi veicoli. Mi ha consentito di entrare in maniera graduale nel ruolo che attualmente ricopro. Infatti è stato un percorso molto utile e che mi ha permesso di crescere professionalmente parlando, fornendomi delle competenze teoriche ma anche con tanto training on the job. Infatti ho avuto non solo l'opportunità di fare dei corsi teorici con il Politecnico, ma anche appunto di stare molto a contatto con i colleghi, con esperienza e appunto di avere competenze che tutt'oggi mi sono utili e indispensabili nel mio lavoro. Assolutamente lo consiglierei perché è stata un'esperienza estremamente formativa e di alto livello. Consiglio ai ragazzi che magari stanno pensando di intraprendere un percorso di master come il mio di appunto di lanciarsi in queste esperienze che sono appunto altamente formative e che consentono tanti sbocchi diversi. Mi auguro di continuare appunto il mio percorso professionale attualmente all'interno dell'azienda Iveco perché mi sto trovando estremamente bene e mi auguro appunto di continuare a acquisire nuove competenze e magari appunto nuove responsabilità.